4 per favore no non ci sono i miei ammigiani parte degli anni agli solamente guarda che i residenti non posso si tutti possono perché sono comunque anni se ne stessi sopravvivere non è dopo 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 e non il cd vabbè io vado c'è io vado ad anacota omega a ma che cazzo esatto non ci devi cosa non si deve no non c'è di sotto non c'è da nessuna parte tasso ma tu hai scritto cerci dai tu una mano su tasso ma tu stai a scartire no oh 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 è lorenzo è lorenzo può essere c'è al comando per scrivere no no non mi piace sta cosa ok che ho la connessione strabassa un altro bene dai lorenzo no 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 non mi piace sta cosa perchè giuro che possono avere i miei stessi permessi altri utenti giuro mi cazzo come lo schifo è lorenzo vabbè ma che cazzo è no mi piace sta ma come sono un nuovo imperatore che cazzo ah va che è no vabbè dai ma com'è ma com'è ma com'è ma com'è ma com'è ma com'è tre zittura no due No, no, che merda, eh No E' pagliacciata Ma basta banare tutti i tizzo altri è a posto Oh, Calmino Dai, non è basta No, 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 serio, l'Oressi sei tu basta Questo è chiamato da Renzo No, però non sembra che risponda Cosa c'ha Fonder? Non l'ho scritto io Ma che cazzo sta succedendo? Un po' di ban per le parole, Tito E ban per aver scritto Ma che posso fare? Io per tutti Ma che cazzo Zazzo non inventa Anche domande Anche domande Mamma mia, hanno fatto crashare tutto qua Perché hai due stanga Hai due stanga Veramente Io sono crashato Sì No, io sono stanga Sì Ah, beh, beh Dai, basta E cancela l'altra Ho crashato Ho crashato Boh Ma, ma, ma Raga, mi sentite me? Sì, prima mi sentivo il più vettuto Cosa sta qui è entrato? Tu mi sei entrato E' uscito Ma perché? Ma poi dove stanno? Non ci stanno Infatti Non c'è nel tab Secondo me Sai come Sono entrato col cellulare E' infatti Allora so per forza Lorenzo Si è entrato col cellulare lorenzo simone miller oa no ti prego no ti prego no non voglio tipo vedere la mia town griffata con tutte le mie cose scomparse come come è successo quando mi hanno rubato la password in un server stanga scrivi che l'unico vero zazzo è quello che sta in calco me tanto lorenzo dice di no è lui che sta scrivere si per forza sono io sono io perro no no io sei l'unico perro trova non è stata un bel opere anche apri cuore non posso aprire più stile aperto qua era questi quali anni bottoni di legno quindi possono io alla farm di mob sto mettendo a posto come ok no mi stai cazzando sì sì va bene guarda qua sono quando entra lorenzo diventa così è che ci stanno due persone che parlano sì infatti a tisca scientifico delle scende tradizionale tradizionale vado amici dopo odio 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 attraversa c'era t st st per casa la dotati dotato dc no tori u 8 4 sono quattro adesso dentro that box verrà bannato è vero ci alleiamo giuro non sono io beh raga guarda io non faccio niente ora ora sto scrivendo un cartello e tu però lo dici anche in chiamata con lorenzo dovresti aspettare che ti riuscire il cartello c'è già un braccio ok ho ancora finito il cartello ok dagli controlli della tavola e poi queste cose qua del mobs che cosa ciao giovanni ma che cazzo nooo si si dici sanga scrive ma chi è che scrive madonna è lorenzo ah grazie madonna non è vero non è vero è john è lorenzo qui con john brosciano raga andiamo in un'altra call c'è scendete in city mercenary c'è un switch che bastarde lorenzo è lorenzo è lorenzo c'è du lorenzo piantalo lorenzo non è divertente per niente allora non non me ne frega niente di i dici assetto tl voglio toglia sti zazzo ci sono zazzo di troppo vai siamo zazzo 7 ci sono zazzo sono uno ci restano 3 di troppo dai invitati come si chiama maddi un punto santa ma i due i due mob spawler di blade ci sono ancora la ah no scusa mi ha detto prendili tutti ah ok a posto così almeno se li tiene tutti lui ah infatti è moglie tu piatti tu piatti eh ok bravo eh si va basta solo io il vero fatto ok daz ok c'è tanto chan che se leaders o c'è tu da c'è ma come ti muto? mi è successa la stessa cosa in un altro server ma di dio santo Lorenzo lasciti al server ti troppo tutto? si devi tutto perchè ci sono 27 zatti in più ma cosa fa? ma cosa? ah no, posso scrivere dalla console posso scrivere dalla console si, non si ci sono ciao vedi 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 sono sei ah credo, grazie volento che lei ha detto tu anche vabbè no, ci'è stato buttato no no, l'hai detto io non ci sei non capivo più niente no, no foto per te tt 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 st siti infatti Ciao a tutti ragazzi Siamo andati a casa mio padre Guardate che cosa ho dovuto ritirare da solo Ragazzi io ho questo pacco So cosa c'è dentro ma non so come è messo Perché ragazzi guardate è molto sottile Io ho ordinato un gioco per 3DS